Vado a lavorare per aziende come ABB o Tesla. Ho scelto specialmente Politecnico perché il suo ranking tra le università nazionali. Una app che permette di utilizzare tutti i sensori che sono presenti su un normale cellulare e di fare delle misure. Apprezzo molto il tentativo del rettore di tenere aperto l'università il più possibile per permetterci di avere queste esperienze qui che appunto sono fondamentali. Congratulations again!